ragazzi finalmente ci siamo è arrivato il giorno del prime day si lo so manca ancora un giorno quindi vi dovete affrettare a fare gli acquisti perché magari potete anche trovare prodotti che si magari li potete acquistare ma poi sono disponibili fra sei mesi per la consegna quindi bando alle ciance prima vi invito a iscrivervi al canale mettere un bel mi piace non costa assolutamente nulla e attivare la campanella così da essere abeltiti ogni qual volta cercheremo un nuovo video ma prima di mandarvi qualche consiglio succulento per poter cominciare a utilizzare il nostro assistente vocale o ampliare la gamma di prodotti e di accessori che avete in casa vi guardate la nostra sigla come dicevamo prima della sigla adesso faremo una carrellata di prodotti direttamente dal cellulare così non perdiamo tempo vediamo di farvi vedere anche dove andare a cliccare tutte le offerte che a parere nostro parlo al plurale perché è come se ci fosse anche mio fratello e non è che sono megalomani quindi a parere nostro sono prodotti che se volete iniziare ci sono alcune offerte che veramente non potete perdere e poi invece se qualcuno di voi ha già dei dispositivi potete ampliare la gamma o di assistenti vocali o di accessori e quindi rendere ancora più smart e divertente casa vostra andiamo a vedere guardiamo insieme le offerte relative al prime dei inerenti il nostro dispositivo domotico naturalmente metteremo qui sotto i link in descrizione di tutto ciò che vi abbiamo presentato telecamere serratura tutte queste telecamere hanno una app dedicata quindi eventualmente se volete potete utilizzarla anche col vostro cellulare con la sua app dedicata ma naturalmente presentando i prodotti e accessori inerenti il nostro dispositivo domotico vi consigliamo di prendere una telecamera che si possa connettere con il nostro assistente vocale tutte quelle che vedete vanno benissimo potete andare a guardare le caratteristiche tecniche delle stesse per poter vedere quale di queste ha delle caratteristiche che vi possano interessare naturalmente se poi avete un eco show quindi quello con il monitor avete la possibilità anche di poterla connettere e vedere in diretta tutto quello che succede se entriamo alla voce termostato vi consiglio perché abbiamo fatto anche un video inerente a questo prodotto il tado semplice da montare semplice da configurare funziona benissimo vi dà un sacco di informazioni anche se per caso lasciate una finestra aperta se non c'è più nessuno in casa quindi tutti i consigli per potervi far risparmiare sul riscaldamento di casa a questo poi potete anche abbinare le valvole vi danno la possibilità non solo di comandare con il termostato il riscaldamento ma potete comandare anche singolarmente ogni stanza dopo averla configurata i prezzi vi posso garantire che sono veramente ottimi trovate comunque vari bundle decidete voi poi quale vi possa interessare andiamo nella sezione dell'illuminazione per nostra esperienza le lampadine smart sono fantastiche servono soprattutto per fare una luce d'ambiente ma se volete acquistare una lampadina per poter illuminare una stanza informatevi bene sui watt corrispondenti a quelli di una volta perché non fanno moltissima luce però come luminosità ambientale è perfetta passiamo ora i set per poter cominciare con il nostro assistente vocale qui ci viene proposto ad un prezzo di 29 euro 99 l'eco dot di quarta generazione quindi la differenza col 3 è che avete un audio sicuramente migliore perché vi punta punta l'audio verso di voi e non nella parte alta del dispositivo come succedeva verso il 3 quindi si aveva un audio si buono ma non eccellente come questo e anche il nostro assistente vocale ha un tempo ha dei tempi di reazione molto più veloci qui ci viene proposto con una lampadina smart piuttosto che con una presa smart io vi consiglio la presa smart o in alternativa un sonoff che staccano attaccano la corrente direttamente al lampadario di casa vostra se per caso invece avete l'esigenza di avere un eco che vi dia anche l'orario da poter mettere ad esempio sul comodino a 39 euro e 99 avete il bundle ecco ecco dot quarta generazione più una presa come vi dicevo prima eventualmente se avete anche già una telecamera di video sorveglianza vi viene offerto l'eco show di seconda generazione più una presa intelligente a 89 euro e 99 prezzo molto interessante soprattutto se come dicevo prima avete già magari una telecamera di video sorveglianza che sia compatibile con il nostro assistente vocale se non avete voglia di spendere cifre un po troppo importanti e siete all'inizio e siete curiosi volete vedere che cosa può fare il nostro assistente vocale di amazon vi consiglio allora di stare sull'eco dot di terza generazione prodotto che è in mio possesso e sinceramente non mi ha mai deluso anche per quanto riguarda la parte audio sicuramente non è da mettere a paragone con quello di quarta generazione però vi posso garantire che l'audio è più che soddisfacente e in questo caso viene offerto ad un prezzo di 24 euro 99 con una lampadina smart che va sostituita alla lampadina bulbo che avete collegata al vostro lampadario oppure con una presa smart alla quale poi potete connettere ad esempio la lampada di casa di della sala come ho fatto io e poter accendere e spegnerla semplicemente con un comando vocale molto comodo oltretutto nel momento in cui andate a letto potete impostare una routine e dire buonanotte e lì spegnere tutto in automatico se poi volete spendere ancora meno abbiamo l'eco flex prodotto che secondo me non è stato capito molto io in ogni video lo so rimarco questa cosa ma secondo me è eccezionale a livello audio per poter ascoltare la musica non ci siamo proprio al cento per cento sì se siete sotto la doccia e volete sentire di sottofondo qualcosa ma se siete dei puristi lasciate stare questo prodotto se invece volete collegare ad esempio in cucina perché vi deve aiutare con un timer piuttosto che dare una ricetta informazioni sul meteo sulle notizie questo è il prodotto che fa per voi a 19 euro 99 in bundle con una lampadina a 14 euro 99 solo l'eco flex al quale poi nella parte sottostante dotato di usb per poter connettere una lampadina per poter fare da luce notturna quindi potete anche inserirlo nella cameretta dei vostri figli se sono piccoli mettere sotto questa lampadina che è dimmerabile quindi si può decidere che intensità di luce che colore deve avere la lampadina sottostante può avere anche una sveglia quindi un orologio che va sempre collegato nella parte sottostante o addirittura un ir quindi può comandare tutto ciò che è con infrarosso trovate poi tutta una serie di accessori sempre sull'eco flex sempre nella lista qui dei prodotti in offerta su amazon prime se invece volete provare a passare perché magari finora avete avuto un eco dot e volete un eco show potete provare con questo bundle da 44 euro 99 che comprende un eco show 5 di prima generazione con una presa intelligente alla quale potete connettere tutto ciò che vi dicevo prima ecco qui un altro bundle che secondo me è molto interessante l'eco flex più una presa intelligente piuttosto che un eco dot e la presa intelligente rispettivamente a 19 euro 99 e 24 euro 99 volevo farvi notare che anche il broadlink rm4 mini è in offerta a 20 euro 99 il broadlink serve per poter comandare qualsiasi accessorio voi abbiate in casa qualsiasi elettrodomestico che funziona con gli infrarossi se per caso doveste acquistare il pro ha la possibilità di comandare anche la radiofrequenza quindi se avete ad esempio l'eco auto altro prodotto che poi vi andremo a consigliare potete dare il comando di aprire il cancello di casa vostra e se il dispositivo è nel raggio di azione del vostro cancello quindi vi consiglio di testarlo eventualmente rimandate indietro il prodotto se non vi soddisfa vi aprirà il cancello direttamente dalla vostra auto per tutti coloro che dicono sì però l'rm4 a me serve proprio per poter comandare quattro cose in casa potete sempre scegliere l'rm mini 3 dispositivo a 16 euro e 79 che comunque dà abbastanza soddisfazione prodotto invece che ci ha dato molte soddisfazioni sia per l'installazione che per la semplicità di configurazione dello stesso è il panamalar anche questo in offerta a 15 euro e 98 come il broadlink vi dà la possibilità di comandare tutto ciò che ha degli infrarossi tuttec sicuramente vi consiglia questo tipo di fire stick se avete un televisore che non ha la smart tv integrata perché semplicemente vi basterà connettere questo prodotto all'hdmi del vostro televisore fare il collegamento a internet se poi avete già un account amazon prime farà tutto in automatico e da qui avrete la possibilità di poter vedere netflix prime video youtube ray play e tutta una serie di programmi che sono dedicati alla parte smart dei televisori ottimo prodotto acquistato anche da noi e recensito qui sul canale a questo prezzo sinceramente ve lo consigliamo stiamo parlando di eco auto con questo dispositivo potete fare delle chiamate potete comandare tutti i dispositivi di casa ad esempio state tornando a casa avete una temperatura esterna di 37 gradi mentre state tornando a casa potete dare il comando di accendere il climatizzatore di casa vi consente poi di tornare a casa e avere una temperatura più piacevole rispetto a quella esterna senza dover entrare in casa accendere e aspettare che la temperatura in casa si rinfreschi un pochettino prodotto in offerta a 34 euro 99 per tutti i prodotti che avete visto finora li trovate disponibili qui sotto abbiamo messo i link in descrizione quindi vi basterà semplicemente cliccare e verrete rimandati sulla pagina amazon io direi che è tutto speriamo di esservi stati utili e ci vediamo il prossimo video ciao